Voglio un campione, questa era la richiesta mista speranza avanzata da Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, a Simone Palombi, allenatore e ideatore del TVN Camp. L'occasione era una delle tavole rotonde organizzate per i giovani nuotatori che hanno avuto modo di partecipare alla seconda edizione del corso di specializzazione. Far nascere un campione di nuoto in città, formarlo, allenarlo partendo da Gubbio e questo si appresta a fare il tecnico romano che nella piscina Eugubina porterà in vasca Federico Burdisso, il delfinista, doppio bronzo olimpico, a Tokyo nei 200 farfalla e nella 4% mista, pronto a riscattarsi dopo l'assenza di Parigi in vista di Los Angeles 2028. In realtà la tempistica è stata una casualità perché quando il sindaco ha detto questa cosa un po' davanti a tutti così, anche un po' spiazzandomi, in realtà non pensavo di riuscire a portarlo così breve tempo. Sono contentissimo, Federico è contento perché ha bisogno comunque di una città, di una realtà che lo rilanci e la storia è che sì, Federico sceglie di tornare con Simone Palombi ma con Simone Palombi a Gubbio. È un atleta, la sua storia la sappiamo ma adesso cerca di rilancio e riscatto e quindi spero che Gubbio possa, anzi io ci credo tantissimo, che possa dargli quella spinta in più. Quando inizierete ad allenarvi? Federico sta cercando casa, in realtà come lo sto facendo io anche se sono già qui e mi dito un po' tra la botella e casa a Roma facendo avanti e indietro. La prossima settimana mi ha detto che sarà qui perché comunque deve avere degli appuntamenti proprio per visionare gli appartamenti e poi siamo pronti per cominciare. Una sfida importantissima dunque per Burdisso, per Palombi e per tutta Gubbio che ha già iniziato a far sentire sui social il proprio sostegno al campione, al tecnico e al loro ambizioso progetto che potrebbe essere solo l'inizio di una più grande operazione del rilancio del nuoto nella città di Pietra. Potrebbe essere il primo di un'altra serie di atleti che magari stanno pensando se spostarsi a Gubbio o quantomeno se venirsi ad allenare qui? Chiaramente un atleta di questa portata chiama altri atleti di questo livello. Non nascondo il fatto che ho già avuto dei contatti con allenatori e con gli atleti stessi che vogliono fare alcuni istituti di allenamento insieme a Federico. Questo creerà un circolo pazzesco di nuoto ad altissimo livello e sono contento non tanto per Federico e per noi ma per tutti i ragazzi della squadra e per tutti gli Gubbini che io penso che veramente saranno i primi a beneficiare di questo effetto pazzesco e super stimolante che si sta creando qui.